Buongiorno, sono Roberto Bianchi, sono un istruttore tecnico-pratico dell'alberghiero di Pinerolo e sono qui per presentare la Community Prever, una comunità virtuale costruita per la didattica in rete come strumento di digitalizzazione delle attività. La Community è costruita attraverso il CMS WordPress e alcuni plugin, di cui il più importante è il BuddyPress, sulla quale è stata costruita. Ce ne sono poi altri che consentono diversi tipi di attività. È un multisito, nel senso che ogni dipartimento della scuola può avere un suo sito blog e ogni appartenente dell'istituzione scolastica, dagli insegnanti agli studenti possono avere su richiesta un loro sito blog, all'interno del quale sviluppare le proprie idee attraverso comunque un controllo sulle attività fatte dai docenti più predisposti a questo tipo di lavoro. La difficoltà grande che si è trovata almeno in questo anno e mezzo in cui è partita la Community è far accettare un nuovo sistema di lavoro che richiede alcune conoscenze tecniche sull'uso di strumenti, definiamoli innovativi, che però sono ormai sul mercato del software e dell'hardware da diversi anni come CMS. Difficoltà non proprio difficili perché in alcune ore si potrebbe diventare operativi e poter sviluppare i propri contenuti condivisi insieme agli studenti. È possibile fare attraverso la Community didattica anche in modo un po' diverso, nel senso che si possono applicare strumenti quali i video, le registrazioni audio, tutte cose che si possono fare anche insieme agli studenti, quindi con un'attività collaborativa importante. Questo lavoro l'ha fatto il nostro collega di matematica che ha fatto tutte le lezioni attraverso i video registrati dagli studenti che poi sono stati pubblicati su YouTube e linkati all'interno della Community. Molte altre attività sono state possibili attraverso questo strumento come concorsi letterari gestiti da altri colleghi, attività ricreative che sono al di fuori proprio di quello che è l'ambito dell'alberghiero come i disegni, attività grafiche e alcune altre cose. Questo tipo di attività per quello che è l'alberghiero è anche un po' strano perché noi non siamo una scuola dove l'informatica viene insegnata e dove sicuramente studenti e insegnanti non si aspettano questo tipo di lavoro, però piano piano con un po' di pazienza probabilmente potremmo arrivare a degli ottimi risultati. Grazie a tutti.